Torniamo in studio dopo la pubblicità, la nostra pagina si arricchisce con un ospite come abbiamo visto dai titoli, siamo con Michela Sciurpa, imprenditrice perugina che fa parte del circuito, o meglio è coordinatrice del circuito del network Umbre, network imprenditoriale che riunisce 5 esponenti importanti del mondo produttivo della nostra regione. Buonasera Sciurpa, grazie per essere con noi. Buonasera lei, buonasera Giacomo. Allora parliamo di una novità anche nel nostro palinzesto perché Umbre Network ha proposto un ciclo di appuntamenti, di webinar sul web che sono stati molto interessanti e che da stasera anche i telespettatori della nostra emittente potranno apprezzare nei prossimi giovedì. Di che si tratta? Ricordiamo questo ciclo di iniziative che avete proposto e che ha avuto successo sul web. Sì, dunque innanzitutto un ringraziamento particolare a lei che ha diretto il nostro ultimo incontro. Si tratta in pratica di una iniziativa che abbiamo intrapreso proprio durante l'emergenza Covid, un'emergenza che è stata molto difficile per tutti noi e purtroppo per molti anche drammatica. In quel momento, proprio all'inizio, noi abbiamo avuto la necessità comunque di rimanere unite. Noi rappresentiamo come rete di impresa sei imprese ricettive del nostro territorio e abbiamo deciso di utilizzare lo strumento webinar non solo per rimanere unite fra di noi e discutere delle iniziative da intraprendere, soprattutto nelle nostre imprese, ma anche per avere un modo per continuare a comunicare con la nostra community, con chi ci segue. Ecco, ricordiamo... Abbiamo ideato questa Umbre Web Experience, nella quale abbiamo parlato di temi che riguardano in primo luogo le imprese, ma anche la dimensione della nostra vita reale. Sono temi trasversali. Sicuramente temi molto interessanti. Ricordiamo che di questo gruppo di imprenditrici coordinato da Michela Sciurpa, fanno parte, in rigoroso ordine alfabetico, Federica Angelantoni, Ilaria Baccarelli, Ilaria Caporali e Cristina Colaiacovo. Non ho dimenticato nessuno e che sono accomunate dal fatto di guidare aziende in settori diversi, ma anche che hanno nel loro ambito strutture ricettive vocate al turismo. E Umbre vuole essere anche un circuito di stimolo al mondo delle imprese, a quello istituzionale, per promuovere, comunicare l'Umbria anche al di fuori dei suoi confini. Esattamente. Questo è proprio l'obiettivo della nostra rete, che intende coniugare impresa, formazione e turismo. E sono un po' proprio questi i temi che ci hanno contentito di analizzare quello che stava succedendo in un momento così difficile e di poter offrire, tramite degli ospiti importanti, degli strumenti per poter riflettere tutti quanti insieme. L'emergenza è stata davvero significativa, in primo luogo per le nostre imprese e soprattutto quelle in ambito turistico, ma poi per la nostra vita e per la nostra regione. Noi speriamo di aver offerto uno strumento per rimanere uniti e per superare le difficoltà e contiamo in una ripresa importante. Lo speriamo davvero. Noi intanto per questo giovedì, per questa sera e per i prossimi 5 giovedì, proporremo questi momenti di riflessione che tra l'altro hanno visto la partecipazione di esperti e di consulenti di respiro nazionale e internazionale, su temi che vanno appunto dalla comunicazione dell'impresa alle relazioni fino appunto alla divulgazione del concetto e dell'immagine dell'impresa. Partiremo dall'ultimo appuntamento intitolato Sinergia perché chiudiamo così la nostra intervista con Michela Sciurpa. È stato una sorta di riassunto delle puntate precedenti che però per i nostri telespettatori sarà un'anteprima di quello che potranno poi approfondire i prossimi giovedì. Sì, ripercorreremo insieme a ritroso tutti i temi che abbiamo trattato insieme. Grazie, grazie a tutti. Buona serata. Grazie Michela Sciurpa, buona serata. L'appuntamento dunque con il webinar Umbre Web Experience da stasera per i prossimi giovedì alle 21.05 circa su Canale 11, su TRG. Grazie ancora alla nostra ospite, noi andiamo avanti con il nostro TG.